Mark, dobbiamo uscire di qui. Il grifone non è umano né animale. Mark, è il nostro destino. Noi due insieme, contro il grifone. Ti concentri su un posto e all'improvviso ci sei. Sei il viaggiatore tra i mondi. Mandate i cacciatori! Monstri, angeli di pierna! È la verità. Non ti credo. È esattamente come nel libro. Dobbiamo andare, ora! Sei pronto a seguirmi in questa battaglia? Intendi adesso? Won't you cry? Ciao! Ciao! Grazie a tutti.